Insieme di Corsa per l'Aquila. È lo slogan dell'iniziativa promossa quest'anno per la prima volta dalla Guardia di Finanza dell'Aquila nell'ambito del settimo anniversario del terremoto del 2009. Con il patrocinio della Regione Abruzzo, della provincia e del Comune dell'Aquila, le Fiamme Gialle di Coppito hanno voluto promuovere una corsa su strada non competitiva nella prospettiva di collaborare con la cittadinanza. La corsa si svilupperà sulla distanza complessiva di circa 10 chilometri ad andatura regolare e partirà dal campo sportivo della scuola con l'adesione di mille allievi in formazione e parte del personale in servizio nella Guardia di Finanza. Proseguirà lungo un percorso prestabilito e vincolante per tutti i corridori fino all'area mercatale di Piazza Darmi per poi congiungersi con la cittadinanza aquilana e terminare insieme, dopo un'ulteriore sosta a Piazza Duomo, davanti all'assagrato della Basilica di San Bernardino. Il generale della Guardia di Finanza, Michele Carbone, spiega il senso dell'iniziativa. L'iniziativa è un'iniziativa di solidarietà. Abbiamo pensato nel settimo anniversario dell'evento sismico, a seguito di quello che è successo nelle ore immediatamente dopo il terremoto, la popolazione aquilana si è riversata nel viale Fiamme Gialle. E la Guardia di Finanza, la scuola ha aperto i cancelli alla popolazione, offrendo latte caldo ai bambini, coperte, perché quella notte faceva anche freddo. A distanza di sette anni abbiamo pensato che sono i nostri allievi ad uscire dalla scuola e ad andare incontro alla popolazione aquilana attraverso questa corsa non competitiva su strada. Visibilmente soddisfatta per questa importante novità nel settimo anniversario dell'assisma, l'assessore alla cultura del Comune dell'Aquila, Betti Leone. L'iniziativa ci è stata proposta quest'anno dalla Guardia di Finanza. È un'iniziativa della Guardia di Finanza che noi abbiamo volentieri accolto, perché, come sapete, la scuola della Guardia di Finanza è diventato quasi il simbolo del post-terremoto. È stata la nostra casa nei giorni più critici dopo il terremoto. Quindi che loro abbiano voluto quest'anno dare un segno alla città e chiedere alla città di marciare con loro il 6 aprile per ricordare questa vicinanza ci è sembrato un fatto molto positivo e quindi volentieri abbiamo accolto la loro proposta.